La famiglia marocchina, legittima segnataria di un appartamento popolare a San Basilio, respinta ieri da un gruppo di residenti, potrebbe incontrare forse già domani il sindaco della capitale. All'esame della Procura di Roma la denuncia che sarà inoltrata a carico di 5 persone accusate di aver preso parte alla protesta. Vicini a questa famiglia, ricordiamo che i bambini sono andati via in lacrime, quindi già ci sono stati incontri oggi, ci saranno nei prossimi giorni. Vogliamo però essere anche vicini alle persone che con l'atto che noi non accettiamo però hanno mostrato un disagio, quindi andremo da loro, parleremo perché spiegheremo loro che stiamo facendo una ricognizione di tutte le possibilità per risolvere il problema dell'emergenza abitativa.